La Spes Praia questa sera tenta l'impresa qualificazione alle semifinali di Coppa Calabria. La gara di ritorno dei quarti contro il volley bisignano rappresenta l'ultima possibilità per i praiesi che se vorranno passare il turno dovranno sconfiggere gli avversari con un secco 3-0. L'andata della scorsa settimana si è risolta a favore del bisignano con risultato netto ma tra le fila della Spes mancavano pedine importanti tra cui un regista di esperienza armenante Caruso. Questa sera la banda Under-19 e il centrale dovranno essere della partita dato che sono riusciti a recuperare dagli infortuni. Anche Nervino che non ha partecipato al match di andata potrà dare il suo contributo. Ancora out invece il palleggiatore Emiliano Magurno che purtroppo non potrà essere a disposizione di mister Borrelli ancora per parecchie giornate. In regia torna dunque Morelli che nonostante i pochi allenamenti dovrebbe rispondere bene alle richieste dell'allenatore praiese. Sicuramente sarà un'impresa, commenta mister Borrelli. Il bisignano non è mai stata una squadra facile, al contrario, ma noi speriamo nella vittoria. Servirà tutta la nostra concentrazione e tutto l'appoggio del pubblico che finalmente è tornato a tifare per noi per vincere questa partita. Appuntamento dunque alle 19 alla palestra comunale di Via Verdi.